scopriamo il contenuto della scatola di mantis falls ciao a tutti io sono board games francesco e nel mio canale presento giochi da tavolo facili e divertenti adatti a tutti in questo video andiamo a fare l'unboxing di mantis falls un gioco di bluff e deduzione con ruoli nascosti in cui dovrete fuggire di notte attraverso le pericolose vie di una città se poi volete imparare le regole del gioco vi suggerisco di guardare il tutorial trovate il link in descrizione nel frattempo vi consiglio di iscrivervi al canale per non perdere i miei prossimi video apriamo la scatola di mantis falls e scopriamo cosa c'è al suo interno il regolamento un play mat 60 carte azione 50 carte evento 12 carte alleato 5 carte tramonto 5 carte notte 5 carte buio 3 carte personaggio 4 carte ruolo 6 carte informazioni 3 carte salute 6 segnalini 3 pedine giocatore 6 sacchetti portacomponenti 12 carte vuote personalizzabili 30 carte del modulo plenilunio 12 carte del modulo triade 7 carte e 3 pedine rose del modulo sub rosa 2 pacchetti di bustine trasparenti per proteggere le carte ed ora una panoramica di tutto il materiale presente nella scatola mantis falls è un gioco dalle eleganti stile noir ottimamente curato sia nel design che nel materiale il gioco è racchiuso in una scatola di dimensioni contenute ma piena di componenti di qualità ottimo l'effetto sul tavolo del play mat e delle tre splendide pedine dei personaggi i disegni sulle carte aiutano immergersi nell'intrigante atmosfera degli anni 40 è anche apprezzabile la presenza delle bustine trasparenti per proteggere le carte se vi è piaciuto questo video mettete un bel like ed iscrivetevi al canale fatemi sapere anche cosa ne pensate del gioco e se avete domande o consigli da darmi per oggi è tutto ci vediamo al prossimo video e vi ricordo che il gioco è divertimento ciao ciao